È completamente diverso insegnare agli adulti e ai ragazzi. I ragazzi sono sorprendenti, sono straordinariamente sorprendenti perché sanno cogliere aspetti di un argomento magari trattato tantissime volte dal docente che spiazzano, che ti costringono a riconsiderare tutto quello che hai visto da un punto di vista completamente diverso e questo è un enorme fattore di crescita. Sono Vinicio e sono un coach del progetto Scuola Digitale Team. I laboratori di Scuola Digitale Team sono strutturati in sessioni di tre ore l'una e sono strutturati come vere e proprie esperienze tecnologiche per permettere ai ragazzi di conoscere più profondamente, più dall'interno le tecnologie con cui hanno a che fare tutti i giorni. Abbiamo attaccato questa scheda al pettine e poi abbiamo alimentato queste lucine attraverso questi gavi che prendono energia dalla scheda. L'obiettivo principale è sicuramente quello di fornire ai ragazzi una consapevolezza digitale. Dare ai ragazzi l'opportunità di appassionarsi, conoscere argomenti che non sempre affrontano nel loro percorso scolastico, per esempio. È fondamentale per dargli maggiori strumenti per affrontare il futuro. Questa giornata mi è piaciuta, anche perché abbiamo imparato cose che non sapevo. Non avevo mai provato a fare una programmazione o cose così. Esiste un sito, scuoladigitale.team.it, in cui è possibile scaricare dei video tutorial, seguire delle video lezioni, che permetteranno a chi ha già avuto esperienza nei laboratori di ripeterla, di scoprire cose nuove e a chi non l'ha avuta di affrontarla per la prima volta cercando di diffondere al maggior numero di persone possibile questo tipo di esperienza. Mi è piaciuta molto la programmazione. Abbiamo la possibilità di fare cose nuove. Se non c'era questo progetto, non l'avremmo potuto fare. Lo squadro mi conta i passi. Se lo rigiro, mi azzera ad uno. Poi basta, è stato bellissimo questa volta. Grazie. Grazie.